Dal Vangelo secondo Giovanni Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce. Perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i Giudei gli inviarono a Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero Chi sei dunque? Tu sei Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose Io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio nel sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giornano, dove Giovanni stava battezzando. Buona domenica a tutti, cari amici e cari amiche. Siamo ormai alla terza domenica di avvento. E il Vangelo non è più il Vangelo di Marco, né il primo testo della prima domenica nel secondo, bensì è Giovanni. Giovanni ci propone una terza tappa in questo cammino di avvento. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Essendo il progetto di Dio rivolto agli uomini, Dio sceglie un uomo. Dio evita accuratamente persone del sistema religioso del tempo che sono refrattari e addirittura ostili al suo progetto. Chiama invece un uomo, un uomo che non fa parte dell'istituzione e lo chiama Giovanni. Il Signore è misericordia, questo significa il nome di Giovanni, per essere un testimone della luce. Perché l'azione delle tenebre, che nel Vangelo di Giovanni è identificata con l'istituzione, è stata talmente forte, talmente grande, che ha narcotizzato ogni uomo. L'uomo non vede più la luce. Allora il compito di Giovanni qual è? Quello di ridare speranza, di risvegliare il desiderio di vita a tutti gli uomini. E poi il brano continua col versetto 19. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei, e lui poi, gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti. Ecco, Giovanni quando arriva e cerca di portare questa forza di vita, questa apertura di strada, cosa accade? Accade che l'ostilità aumenta. Scatta l'allarme. Appena si manifesta l'azione di Dio, ecco che scatta un'azione contraria. Accade sempre così, cari fratelli e sorelle. Quando si vuole lasciare spazio all'opera di Dio, il diavolo fa la sua parte. Con il termine giudei, che appare qui per la prima volta nel Vangelo di Giovanni, si identifica non il popolo, bensì l'istituzione giudaica, gli esponenti religiosi, i quali inviarono, l'Evangelista prima ha parlato di un uomo inviato da Dio, ora sono i giudei che inviano contro la luce, contro colui che vuole risvegliare la luce, inviano coloro che vogliono spegnerla, questa luce. Inviano da Gerusalemme, la città santa dove risiede l'istituzione, inviano sacerdoti e leviti, i sacerdoti erano l'uomini del Tempio, i leviti avevano anche la funzione di polizia, c'era l'allarme di un personaggio strano e loro inviamo i poliziotti, i servizi segreti, così che possano intervenire subito. Gli si avvicinarono in maniera brutale, senza alcuna forma di cortesia, scusi, siamo noi? No, no, chi sei tu? E Giovanni risponde, io non sono il Cristo, cioè non sono il Messia. È quello che temevano, perché l'avvento del Cristo avrebbe disarcionato il loro potere, avrebbe messo a posto quel marciume della casta sacerdotale che si era insediata in Gerusalemme e avrebbe cacciato via, espulso i sacerdoti che erano corrotti. Quindi lo temevano. Allora chi chiesero? Chi dunque sei? Sei Elia? Elia era il profeta che riteneva dovesse venire prima del Messia. Le risposte di Giovanni sono via via sempre più secche. No, non lo sono. Sei tu il profeta? Il profeta ha annunziato da Mosè che sarebbe dovuto venire per interpretare la legge. No! Quindi tre risposte di una durezza, di una chiarezza, l'una dietro l'altra. Allora gli chiedono ma chi sei? Perché possiamo rispondere a chi ci ha mandato? Ecco qui l'evangelista cita il profeta Isaia, ma modificandolo, io sono voce di uno che grida nel deserto. Mentre il profeta Isaia rispondeva preparate la via del Signore, qui Giovanni dice raddrizzate. Ecco, le autorità religiose non hanno alcun compito, ma in questo caso devono soltanto raddrizzare, non preparare. cioè togliere gli ostacoli che hanno posto davanti al popolo di incontrare Dio. Loro che avevano la funzione di farli incontrare Dio hanno messo degli ostacoli. Ed ecco allora che scatta l'allarme e compaiono anche i farisei per la prima volta per interrogare e eventualmente arrestare Giovanni. e compariranno l'ultima volta all'arresto di Gesù. Il termine farisei indica separati. Sono dei laici che tentavano, cercavano, proclamavano di vivere le 613 leggi, precetti della legge di Mosè. Ora, hanno capito che l'ostacolo è proprio quest'uomo che viene a disarcionare questa visione. dobbiamo applicare le 613 precetti per vivere in comunione con Dio. E invece il personaggio dice che non è questa la linea, non è questa la modalità di vivere in comunione con Dio. E adesso abbiamo Giovanni che denuncia questo modo di concepire la fede e dice io battezzo, io battezzo con acqua ma in mezzo a voi, proprio in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ed ecco qua la denuncia fortissima di Giovanni. Siete qui voi uomini della religione, vi opponete alla proposta di un annuncio nuovo che io faccio, di un cambiamento e voi non conoscete Dio. Non conoscete colui che viene a portare la pienezza della vita. Perché chi ha un rapporto con Dio basato solo sulla sorvanza della legge mai può conoscere un Gesù che propone un rapporto col Padre fatto d'amore. Torno ancora come ho fatto nei giorni scorsi in quella città martoriata di Gaza e torno ancora in quella comunità la comunità cristiana sotto le macerie che vive accanto ai diseredati di questa guerra e così scrivono la notte appena trascorsa l'abbiamo passata dentro la chiesa perché razzi e bombe sono esplose qui vicine aggiunge Sor Maria del Pilar missionaria dell'istituto del Verbo incarnato che vive a Gaza nessuno tra i nostri ha riportato ferite ma tanta paura specie tra i bambini dopo tutte queste settimane di guerra in parrocchia stiamo tutti abbastanza bene e questo lo considero un miracolo qui abbiamo circa 700 sfollati per un totale di 132 famiglie ognuna di queste con i suoi problemi pensieri paure nonostante ciò la convivenza tiene e ci si aiuta gli uni agli altri senza risparmio una comunità che vive con un'unica legge la legge dell'amore anche nel momento della difficoltà e della persecuzione di queste lezze che vive la legge di queste Grazie a tutti. Grazie a tutti.